Continua la fase di studio del duo Nicola Alberani e Nenad Vucinic, lo staff tecnico sta decidendo le mosse di mercato. Gli italiani sono la priorità, ma è sugli stranieri che si sta facendo il punto della situazione. Dopo aver preso in considerazione alcuni nominativi, il club bianco-verde sta decidendo il destino di Thomas Krabb. Il giocatore canadese, tra i convocati della Nazionale per le prossime qualificazioni mondiali, non è certo di restare in Irpinia. Il destino dell'atleta dipende dagli attrati italiani, che Avellino riuscirà a mettere sotto contratto. A Basso e Fontecchio ad oggi sembrano essere degli elementi fuori portata perché Milano non ha intenzione di regalare i suoi atleti a squadre concorrenti. E così, finché non verranno sciolte le riserve sugli atleti di tricolore, il futuro dell'ala canadese non potrà essere sciolto. Resta così sempre in dubbio la presenza in Irpinia. Zerini invece è destinato all'addio. La situazione in casa di Avellino comunque sembra essere un po' ferma. Ai bianco-verdi è stato anche offerto il giocatore dell'Holdenburg, Mickey McConnell. Mentre si sono chance di conferma per Shane Laval.